Tacc! Partiti! Andrea Alzati, 10K, perché partecipare? Perché anche quest'anno stiamo preparando una 10 km a Monza eccezionale. Stiamo curando veramente i minimi particolari, ci saranno delle novità, delle curiosità, una medaglia molto particolare, una maglietta che ogni concorrente potrà personalizzare col suo tempo. Quindi invito veramente tutti a venire alla quarta edizione. Il percorso sarà identico a quello dell'anno scorso, musica lungo il percorso per chi farà la corsa il sabato sera. Aspettiamo circa 1.200 iscritti alla gara FIDAL del sabato sera, le 10 km, e circa 2.000 persone per la domenica mattina. Le iscrizioni per la gara serale sono già aperte, il sito funziona www.10k.it, trovate tutte le informazioni. Una decina di giorni prima della 10K, in 14 punti segnati, punti ufficiali, dove potrete trovare il kit di iscrizione di 10K, potrete iscrivervi. Vi aspettiamo, veramente vi aspettiamo, siamo pronti.